E' c'è ragazzi, oggi sono uscito dalla porta, ti vedo molto fichi, ho cappello e adesso faccio una parodia del cappello a volante! Ma non esiste, si, allora se noi facciamo fare questo, cappello volante, se noi facciamo volare fino là, fino là sopra, questo video, per raggiungere 200.870.000 iscritti, facciamo un nuovo vlog! Volg! Volg? Ah, la macchina! Vabbè! Allora, Paolo, dice che vuoi via? Uno, due, tre! Ma questa challenge è stupida, credo che ne è un'altra! Allora, il piede volante, cappello! Povero Dorian B! Povero Dorian B! Che si sta facendo fare la parodia da questo! Ciao! Ma ti è rimasto le etiquette! Allora, questo video finisce... No, no, no! Dopo di video, fammi sistemare! Ma non ti puoi sistemare qua! Un cappello ti devi mettere, mannaggia la misera, è un cappello! Eccomi ragazzi! E oggi, pervistiamo al nostro, caro, cameraman! Eh! Ciao ragazzi! Io sono il cameraman, ovvero Cristian, e lui è il mio fratello Mattia... Mattia, che ha interpretato Dorian B in questa parodia... Io sono Dorian B! E nello scorso video... No, no, tu sei scemo! E nello scorso video ho fatto io la parodia di Dorian B dello speciale 13 iscritti! E poi domani farò un'altra speciale 1000 iscritti di Dorian B ufficiale! Se questi iscritti arrivano... E vabbè, dai, ciao!